Io credo che sia stato un buon anno per il Consiglio regionale, sono state approvate alcune leggi di grande importanza e che in passato, ahimè, malgrado la buona volontà dei colleghi che ci hanno preceduto, per motivi di corretta formulazione normativa non erano riusciti a reggere l'urto dei controlli, una tra tutti lo psicologo di base. Il Consiglio ha approvato riforme strutturali, pensiamo al testo unico del turismo, si appresta ad approvare il testo unico della cultura, finalmente dal lavoro delle strutture del Consiglio regionale e della Giunta è stata approvata la legge unica urbanistica, la LUR, attesa da 40 anni. Non siamo andati in esercizio provvisorio approvando la finanziaria del 30, una finanziaria che contiene molti correttivi e che era stata preceduta dall'assestamento di bilancio e dalla messa in ordine dei conti della regione Abruzzo con l'approvazione di tutti i rendiconti dopo le varie impugnative che vi erano state nel dato di parifica. Si era rischiato che il rapporto con le opposizioni si trasformasse da duro confronto a pregiudiziale scontro. Diciamo che la fase finale di quest'anno ha riportato il rapporto a un duro confronto e questa è una cosa utile per l'Assemblea legislativa perché ci mette meno tempo ad approvare delle norme e il lavoro diventa assolutamente più produttivo.